Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Visione TV. In questi giorni in cui si sta parlando molto giustamente della Commissione parlamentare che indagherà sulla gestione pandemica, è giusto però focalizzare l'attenzione anche sul Green Pass, tornare cioè a parlare del certificato verde. Perché? Perché sul tavolo della Commissione europea c'è una proposta che sta prendendo sempre più piede, che sta acquisendo sempre più terreno, che è quella di utilizzare la stessa tecnologia del Green Pass, quindi il codice QR Code usato per attestare l'avvenuta vaccinazione, usarla per le ricette elettroniche per la tessera di vaccinazione all'interno del quadro dello spazio europeo per i dati sanitari. A confermarlo è stato il portavoce della Commissione europea per la salute, Stephen Dekers-Macher, che ha annunciato che sono proprio in arrivo i primi progetti pilota su questi due fronti, ricette elettroniche e tessera di vaccinazione. Dekers-Macher ha inoltre anticipato che la Commissione non rinnoverà oltre il giugno del 2023 e il regolamento che ha istituito il Green Pass, in qualche modo ne ha evidenziato il successo, ma questa è la tipica propaganda per sostenere il successo del certificato verde, che invece come sappiamo ha compresso le libertà di milioni di cittadini, ha ricattato attraverso una vera e propria imposizione i cittadini, i lavoratori, è stato anche introdotto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie, si è creata una vera e propria apartheid sanitaria e soprattutto i governi, in questo caso il governo italiano, è stato legittimato a sostituire i principi democratici con dei dispositivi basati sul biopotere e sulla biosicurezza, perché una crisi è stata strumentalizzata, è stata sfruttata per introdurre delle misure, appunto liberticide, delle misure dracognane che hanno limitato i diritti, la privacy e la libertà fondamentale di milioni di persone. Questo è avvenuto sull'onda della paura, perché è stata utilizzata la tecnica dello shock, quindi la paura, si sono terrorizzate le persone, si sono convinte le persone che si trovavano davanti a un bivio e che per riacquistare la propria salute e la propria sicurezza erano costrette a abdicare alla propria privacy, alle proprie libertà fondamentali, al diritto di circolare, di avere una vita civile, di lavorare. Quindi tantissime persone sono state convinte che per tornare a sentirsi sicure, citando Agamben, erano costrette a vivere una vita nuda ed è esattamente quello che è stato fatto. Questa notizia, ossia questo progetto pilota, la possibilità che la Commissione europea utilizzi la tecnologia del Green Pass per le ricette elettroniche, per la tessera di vaccinazione, ci conferma che avevamo ragione quando, insomma in questi ultimi tre anni, in questo triennio, abbiamo cercato più volte di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio che ci si trovasse davanti a un grande esperimento sociale, a un grande laboratorio sociale. Perché? Perché a mio dire il Green Pass è stato proprio questo, un esperimento sociale, ma anche l'apripista ha un processo di controllo sociale, di sorveglianza tecnologica che si vuole rendere permanente e sempre più capillare ed efficace, ispirandosi anche in parte al modello cinese del credito sociale, del sistema di credito sociale, ovviamente in salsa occidentale. Per farlo bisogna andare per gradi, seguire la teoria della gradualità e soprattutto bisogna sfruttare le crisi, strumentalizzarle, per poter legittimare agli occhi dell'opinione pubblica l'introduzione di misure che altrimenti sarebbero impopolari. Le crisi servono proprio a questo, vengono sfruttate dal potere e lo stesso potere, le stessi esponenti e rappresentanti delle elite tecnocratiche che lo ammettono candidamente, lo hanno ammesso durante l'11 settembre e l'11 settembre è stato e successivamente le lettere rantracce sono serviti da un lato per avere il caso Sbelli, per poter dichiarare guerra all'Afghanistan, successivamente con la messa in scena e la fake news sulle armi di istruzione di masse irachene per portare avanti anche la guerra in Iraq, per privatizzare il governo e per introdurre un pacchetto di misure liberticide, noto come patriotact americano. Sappiamo benissimo che c'è stata una vera e propria strumentalizzazione della crisi, della paura, il terrore generalizzato da quegli attentati ha fatto in modo che le persone arrivassero a giustificare, a legittimare delle misure che altrimenti non avrebbero mai accettato e durante questo triennio è avvenuto esattamente lo stesso, proprio perché dall'11 settembre a oggi, anche se da noi in Italia è una tecnica, è un modello, uno schema che conosciamo da decenni, va avanti, prosegue proprio questa strategia della tensione, la paura come metodo di governo e la paura come metodo di governo ha portato anche a legittimare, a giustificare l'introduzione di un lasciapassare del Green Pass che è stato anche un precedente, ha creato un precedente. Quindi oggi, anche se il Green Pass è stato sospeso, anche se l'Unione Europea sospenderà il regolamento da giugno del Green Pass, in ogni caso si è creato un precedente. Sappiamo che qualora dovesse presentarsi una nuova emergenza a livello di epidemia o di pandemia verrà rispolverato, perché è stato lo stesso portavoce della Salute della Commissione Europea a dichiarare, a parlare di successo per quanto riguarda il Green Pass, ma è stato anche, in qualche modo si delinea come un precedente, rappresenta proprio un precedente. Perché? Perché ha fatto in modo di essere un'apripista, di spalancare le porte a quel processo, come dicevo prima, volto a creare una gabbia tecnologica, volto a rendere la rete di controllo e di sorveglianza tecnologica sempre più capillare, sempre più sofisticata, addirittura permanente. Perché? Ci dobbiamo abituare all'idea che quando si adottano delle misure in stato di emergenza durante una crisi, poi queste misure impopolari, anche liberticide, dracognane, hanno la tendenza a non essere poi sospese, a rimanere in qualche modo, a rimanere magari in forme più edulcorate, leggermente diverse, ma comunque a rimanere, a rimanere in pianta stabile, a creare quindi un precedente. E col Green Pass è avvenuto esattamente questo, così come era avvenuto per esempio col patrotact americano. Quindi è bene anche non pensare quando si cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica che si sia all'interno di delirio, di paranoie complottiste, perché abbiamo visto soprattutto in questi tre anni che tutta una serie di allarmi poi erano assolutamente concreti e fondati. Bisognerebbe anche cercare di smettere di concentrarsi, di focalizzarsi esclusivamente sul presente, cercare senza scadere nella paranoia però di prevedere quali possono essere poi i passaggi successivi, soprattutto alla luce della storia, di una memoria storica, perché poi i rappresentanti delle elite tecnocratiche utilizzano sempre il medesimo modello, sempre il medesimo schema. In questo caso non soltanto la polarizzazione dell'opinione pubblica, ma la teoria dello shock, la paura, come dicevo, come metodo di governo che permette poi di legittimare, di giustificare delle misure impopolari che in quel frangente l'opinione pubblica finisce per accettare perché è terrorizzata e sottoposta a una forma appunto di shock, di terrore reiterato che serve proprio a questo. Non a caso si parla anche di capitalismo e disastri, quindi tutta la scuola di Milton Friedman, i cosiddetti Chicago Boys, perché costoro hanno ben insegnato ai governi e insomma a determinate elite anche a introdurre, a legittimare delle ricette economiche impopolari sfruttando proprio, strumentalizzando le crisi. Ora sul tavolo della Commissione Europea c'è questa possibilità, la possibilità di utilizzare come dicevo la tecnologia del Green Pass e usarla per le ricette elettroniche e per le tessere di vaccinazione. non è ancora stato normato, quindi c'è ancora spazio per far sentire la propria voce, il proprio dissenso, il proprio sdegno sia attraverso i rappresentanti nelle sedi istituzionali sia attraverso il potere, la voce, il consenso che tutti noi abbiamo. Anche perché il potere ci è abituato a farci sentire meno potenti di quello che siamo, addirittura impotenti, inutili, come se la nostra voce non valesse nulla, c'è addirittura spinto ad autocensurarci, mentre invece rischiamo in qualche modo di cedere il nostro consenso in maniera gratuita e in maniera sempre più passiva e più a critica. E' proprio questo il momento, a mio dire, invece come per tanti altri casi, che bisogna manifestare il proprio dissenso, soprattutto prima che la nostra voce venga relegata in un angolo, addirittura venga spenta attraverso la censura, perché questa è l'ennesima riprova che il triennio che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato anche un grandissimo laboratorio sociale, un grande esperimento sociale, si è creato un precedente e da questo precedente c'è il rischio di continuare a incamminarci verso una strada che porta dritta verso il transumanesimo e il postumanesimo e soprattutto che rischia di creare una società trasparente in cui tutti i nostri movimenti, le nostre abitudini, le nostre transazioni possano essere, possano diventare totalmente trasparenti, quindi una gabbia digitale che rischia anche di stringersi sempre di più attorno a noi. Quindi questo è il momento di far sentire la nostra voce, il nostro dissenso e anche di elaborare delle alternative a questo processo che vuole rendere sempre più capillare e permanente il controllo e la sorveglianza.